Volevo solo dare una risposta a tutte queste voci che girano. Il mio gruppo con 8 under, 6 in campo e 2 in panchina abbiamo dato una lezione di calcio a questo FC Avellino. E forse andremo a giocare una grande partita anche domenica prossima. Perché questi ragazzi, come Catello Esposito, che non gioca da un anno e mezzo, ha dato una mano a questa squadra grandissima. Un attore che non gioca da tantissimo tempo una partita ufficiale, ovviamente di promozione. Gli under, alcuni mai utilizzati, come Gabriele, non mi ricordo, adesso sono un po' confuso. Vigorito. Vigorito, ha fatto una partita per me sulla fascia esagerata. Le ringrazio di nuovo e soprattutto ringrazio tutto lo staff, ringrazio anche il direttore sportivo che stamattina è stato richiamato in squadra. Ringrazio il mister della Juniores che ci ha dato una mano a compiere questa partita. Oggi è stato un miracolo, veramente. Da questi under può ripartire la ricostruzione del Serino, anche perché lei in settimana è stato ospite della nostra trasmissione e ha elencato tutti i progetti che sono nitinere nella sua società. Sì, i progetti li riconfermo e saranno a disposizione sul sito da qualche settimana, una volta che abbiamo firmato gli accordi sia con il Comune che con questa Academy che è già elencato. Niente, mi dà ammarico, ripeto, per alcune persone che comunque continuano a parlare male del Serino e questo mi piace tanto, anche perché oggi sugli spalti c'erano più di 150 persone, tutte entusiaste, soprattutto gente che si sta tirando a Serino perché abbiamo visto che noi non molliamo mai. Diciamo che proprio elencando i progetti possiamo dire che l'anno prossimo quasi sicuramente vedremo il sintetico a Serino. Allora, il progetto ci sta. Adesso lo consegneremo al Sindaco, si riunirà il Consiglio Comunale e diranno questa cosa. Logicamente il tempo è tiranno perché noi andiamo in preparazione e la ditta praticamente una volta fatta tutti gli adempimenti sono 60-120 giorni per fare il sintetico, quindi noi le prime partite sicuramente non le faremo qua. Chiederemo sicuramente un piacere a qualche altro amico di farci sputare le partite sul campo San Basserino, vedremo un po'. Invece per quanto riguarda, non vuole essere un'intervista di fine stagione, però la domanda è lecita. Questo Serino farà o non farà la domanda di pescaggio in eccellenza? Abbiamo già preparato tutto. Appena si può consegnare il Lega prepariamo l'assegno circolare per quanto riguarda l'iscrizione e soprattutto la domanda per il riprescato.